Hey! Ciao! Io mi chiamo Federico Valisi e mi trovo nel mio studio di Gargallo. Il mio obiettivo di oggi è quello di provare a fare un beat, trap e provare a farti sentire com'è con la batteria elettronica che ci metto sempre io, chiaramente e com'è con la batteria acustica e vedere com'è la differenza e che cazzo, non è che si può fare tutta la trap con la batteria elettronica Cioè, chi è che l'ha deciso? Chi è che ha detto che da quel giorno si doveva fare la trap solo con la batteria elettronica? Cioè, non ho capito io, cioè... Anche a me piace la trap Io che sono un batterista cosa faccio? Devo metterci la mia batteria Beh, decideremo se è meglio la batteria acustica o quella elettronica Ah, c'è da fare una premessa Io non sono un produttore, non so mixare non conosco bene tutti gli aspetti della produzione musicale Sono solo un batterista che sta provando a imparare a suonare il pianoforte un pochettino e imparare a produrre qualcosina Non è un mio primo tentativo magari ce ne saranno altri Chi lo sa, vero di si Buono! Proviamo ad ascoltare il beat Prima di tutto ascolteremo il beat con la batteria elettronica Sentiamo Ok 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 Let's go Let's go Ok 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 E non sono nel mio studio, sono qui a Gargallo Oh yes Nice, mi garbato Proviamo ad ascoltarlo con la batteria acustica 3, 2, 1 Ok 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 Tutta un'altra storia Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes E finisce così capito? Pazzesco Mi sa che la batteria acustica dobbiamo bollarla, mi sa Beh figo no? Non so, boh, beh La batteria acustica non so, ha sempre qualcosa in più Però mi piace anche quella elettronica È bello, figo Non sono bravo a produrre brani Non sono bravo a scrivere delle parole Perché sono sempre stato abituato a suonare Io, mica a cantare Però possiamo migliorare Comunque ci vediamo presto Te che dici? Ciao